Non so se dirmi più sorpreso o più onorato del fatto che il Vice Sindaco Fanese abbia voluto porre le sue attenzioni su di me su questioni di tanti anni fa. Peccato che l'abbia fatto con affermazioni attribuendomi appunto ruoli e affermazioni completamente inventate prive di qualunque rispondenza con la realtà. Mi ha attribuito il fatto di essere stato il rappresentante dei 5 Stelle in Consiglio Comunale. Non lo sono mai stato, se mai lo sono stato di bene comune, mai di 5 Stelle. Poi ha detto che avrei votato a favore su due delibere, una del 2010 e una del 2014, con le quali secondo lui, ma non è vero, sarebbe stato annullato l'impegno di Società Autostrade di realizzare a sue spese sia la progettazione che la costruzione della complanare. Anche questo è completamente inventato, basta andare a vedere le due delibere. Nella prima Carlo De Marchi ed io siamo addirittura usciti al momento del voto, nella seconda non ho votato affatto a favore né io né Ada Romicioli come 5 Stelle perché ci siamo astenuti. Poi l'assessore Vice Sindaco Fanese mi ha attribuito la contrarietà alla complanare. Forse lui non ricorda che la posizione di bene comune è sempre stata, così come quella dei Verdi all'inizio degli anni 90, a favore dei due caselli Fano Nord e Pesaro Sud e della liberalizzazione di quel tratto. Questa per noi era la soluzione ideale. Se questa soluzione non si poteva realizzare, allora si potevano trovare soluzioni alternative. In questo senso la complanare di allora che era devastante, che andava a distruggere un paesaggio veramente importante, era assolutamente nella contrarietà delle nostre posizioni. Viceversa la complanare proposta oggi dai 5 Stelle è tutt'altra cosa. È una complanare molto più leggera che utilizza strade già esistenti, strade di cantiere e che quindi pur restando la principale proposta, quella di liberalizzare il tratto fra Fano Nord e Pesaro Sud, potrebbe essere comunque una soluzione alternativa. Quindi credo che di fronte a tutto questo l'assessore Fanesi e tutta la Giunta farebbe bene a spiegare ai cittadini di Fano per quale motivo in tutti questi anni non hanno proposto, chiesto, forzato la società autostrade a realizzare questa complanare che era ed è, secondo noi, all'interno dei piani previsti per la terza corsia dell'autostrada. Se così non fosse, se ci fosse una delibera che non conosciamo che dice il contrario, la tirino fuori ma chiedano scusa ai 5 Stelle che i cittadini di Fano restano in attesa di avere chiarimenti su questa vicenda.